Tra 400 metri girate a destra via Tommaso Albinone Stiamo andato al mare Bella però dai, molto bella Mi ha inondato un'onda Infatti è tutto bagnato Tutto insabbiato E c'è la sappia sotto E' un errorino Ho appena messo che non diluvia E adesso vediamo un pochettino Perché se diluvia adesso è un problema Vedi un po' che dettaglio Con il cono sopra Che figata Bello, bello bello Ho preso cookies E crema Sta gocciolando Che bello però Che sta paletto fatto così Non ci va a dire tagliare Che figata Allora questa è una porta chiusa no? Aspetta, aspetta Mi sa che è uno che russa Cosa può essere? E' il frigorifero Bastardo Si serve un frigorifero che è russa Si, ciao No, no, no Non ci credo Un frigorifero che è russa Bellissimo Queste sono le avventure che trovate solo sul mio canale Madonna, sembravano che russava Va bene Esco Che faccio? Che faccio? Aspetto qui? Si Beh Io ho già cenato In un altro posto Però Mi sono venuto a fare compagnia Perché in questo piatto a forma di pesce Mi è stato servito questo capolavoro Hai visto? Spaghetti alle vongole Le gusto prima che si fanno freddi Vediamo un po' Prego, prego Vada, vada Che spettacolo Siamo venuti al mare Non mangiamo Andiamo in un ristorante Perché si mangia il pesce Che bontà Che bontà Hai ragione E fuori Pioveva E poi Piove Piove Comunque Diceva che avrebbe piovuto tutta la giornata Sta piovendo solo adesso Solo adesso, sì Infatti si vede lì quelle piogge Altro cibo Che spettacolo ragazzi Mezz'ora dopo Altro cibo Mamma mia Io voglio dormire Che spettacolo Ma quale dormire? Ma mangiati una cozza Mamma mia Che spettacolo Ah si è messo di piovere Almeno Dai Eccolo Che Che Bontà Mamma mia Tu vieni al mare E non ti mangi una cozza Eh Io ho già mangiato Ma ragazzi Ma cos'è sta cosa? Non è mai della Nike Sta cosa Nike Sport Watch Poi il marchio della Nike L'ho mai visto così Questo è tutto Tranne che Nike Questa è una sala bowling Cioè una sala giochi È bella Molto Grande Siamo tornati Siamo tornati a hotel Perché Faceva troppo freddo Lui Ha finito di mangiare E qui abbiamo La sala Cioè il bar Diciamo così Ecco qua Ora qui non c'è nessuno Perché Nessuno serve a quest'ora Cioè Nessuno sta A servire le persone A quest'ora E qui invece C'è la sala La colazione Con tutta la colazione Le nutelle Vesse così bellissime Carine Non avevo mai visto Le nutelle così belle E poi Tutta 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 Il piano Di colazione Biscotti Bello 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 Ok Molto bene Breakfast room È proprio È moderno Questo hotel Fatto così Mamma mia Che bello il soffitto Questa Che figate I lampadari Bello 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 Mi piace tanto Lo stile Mi piace Cosa dice È bellissimo Bene Ragazzi Il personale dell'hotel È di una gentilezza Disomana Il portiere All'attorno Ci ha fatto Ha fatto un caffè Lui Cioè Gli l'ho offerto Gratis Senza proprio Perché Era Michelangelo Io sono Michelangelo Certo Gli l'ho offerto Che calduccio Così gratis La gentilezza Incredibile Ha detto Questo se mi permette Gli l'ho offro io Che carino Cioè Che calduccio Fa caldo Sì Buongiorno Sono le sette A mezza del mattino Il tempo Lo dai massimo E Adesso Andiamo a fare colazione Adesso Mi arriva il latte Questa è La sala colazione Di giorno E' ancora lì E' ancora lì E' ancora lì E' ancora lì Il parcheggio Sì Sì Bene Travolo Nove Tre secondi dopo Che ho chiuso il video Già mi avevano portato Il latte Il succo d'arancia E Gli zuccheri Le cose Bene Quindi Servizio eccellente Il latte è finito Lui ha preso Lui ha preso anche il salato Contentissimo Come fai alle Vabbè Lasciamo perdere lo sfondo Alle 8 e 20 del mattino Mamma mia Io Reggo soltanto il latte Lì da quando sono andato in Germania Sì Germania Ma valla Ragazzi Non vorrei dire però Cioè L'acqua è arrivata qua Cioè l'altro posto Ti portavo tutti I giombelloni C'è stata Una mareggiata Guarda qua Ecco il sole Mamma mia Oddio è vero Guarda lì Mi pare Si è intresso i lettini Eppure là Ci sta Ma il corso del bagnino Quello Oddio Ma il corso del bagnino Quello là Oddio Che cosa del bagnino Mentre che il bagnino stava sopra Che bello C'è un odore di sushi Incredibile Un odore di pesce Quello più forte proprio Guardate che bello Aperto tutto l'anno Aperto da lunedì A sabato Dalle nove Alle 12 e 30 Chiuso giovedì Tutto il giorno Che bello Inoltre il signore qua Mi ha fatto notare Che Si sono trasferiti Bene Andiamo Siamo entrati in palestra Non credo che questa faccia per me Ma più che altro Farò un po' di tapirolan Ehm Qui c'è un sacco di vento Siamo in un altro posto E questa è la situazione Delle onde che hanno questo Mamma mia C'è brutta Ehm Ok Non posso neanche buttarmi Non posso neanche buttarmi